La voglia di Frosinone e il nuovo stadio Benito Stirpe è così tanta che la campagna abbonamenti della squadra giallo-azzurra è iniziata subito a gran ritmo al motto di Hashtag Noi Ci Abboniamo. Sono due le fasi. La prima, quella partita lunedì mattina riservata ai vecchi abbonati che potranno esercitare il diritto di prelazione, durerà fino a venerdì 19 agosto. La biglietteria situata a piazzale De Matteis, portico Tittino Turriziani, dietro a Any Station, è aperta da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 22 ed il sabato dalle 9.30 alle 14. E dunque sono stati davvero molti tifosi che si sono subito presentati per rinnovare il loro abbonamento. In questa fase sarà possibile cambiare settore. La società si è riservata il diritto di assegnare i posti agli abbonati mantenendo la precedente ubicazione dello stadio comunale. Da martedì 2 e 22 agosto invece inizierà la seconda fase riservata alla medita libera. Contestualmente l'abbonamento verrà rilasciato un tagliando segna posto da conservare per tutta la durata della stagione sportiva per l'esatta identificazione del settore del posto a sedere acquistato. Per acquisire l'abbonamento è obbligatorio sottoscrivere la nuova tessera del tifoso al costo di 20 euro che avrà una durata di 4 anni. Come comunicato dalla società l'abbonamento per il campionato 2017-2018 sarà valido per 19 gare con una rimodulazione del costo totale dal quale verrà così detratto il costo relativo a due gare. Quindi nel caso in cui si dovessero giocare alcuni match di campionato nello stadio Partenio Lombardi di Avellino per assistere all'incontro in calendario i tifosi giallazzurri dovranno acquistare regolarmente il tagliando d'ingresso. Al contrario se quelle stesse gare nel numero di una o due si dovessero giocare nel nuovo stadio Benito Stirpe il Frosinone Calcio consentirà l'ingresso gratuito a tutti i tifosi che avranno sottoscritto l'abbonamento 2017-2018. Sarà infatti sufficiente recarsi presso la biglietteria per ritirare un tagliando omaggio previa presentazione dell'abbonamento in corso di validità.